Il principe Filippo e Meghan Markle hanno fatto lo stesso straziante sacrificio per unirsi alla famiglia reale, oggi ricorre il primo anniversario della morte del principe Filippo. Il duca di Edimburgo è morto all'età di 99 anni nella sua casa del castello di Windsor. Era a pochi mesi dal suo centesimo compleanno a giugno. Il duca lascia la moglie di 73 anni, la regina, e quattro figli, otto nipoti e dodici pronipoti. La maggior parte della famiglia si è unita per onorare la vita e l'eredità di Filippo durante un servizio di ringraziamento la scorsa settimana. Tuttavia, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle non erano presenti. La coppia si è dimessa dai loro ruoli di reali senior e si è trasferita negli Stati Uniti due anni fa, una mossa da cui si diceva che Filippo fosse sconcertato. Filippo inizialmente era affezionato alla duchessa del Sussex e la coppia a più cose in comune di quanto sembri a prima vista. Entrambi abbandonarono una fiorente carriera per dedicarsi ai loro nuovi ruoli all'interno della famiglia reale. Filippo si unì alla Royal Navy dal college navale di Dartmouth nel 1939. Filippo prestò servizio con onore nella Seconda Guerra Mondiale. Assistendo per la prima volta all'azione militare nell'Oceano Indiano. Nel 1942, all'età di 21 anni, fu uno dei più giovani tenenti della Royal Navy. Tuttavia, quando la regina salì al trono nel 1952, fu costretto a rinunciare alla sua amata carriera e a dedicare la sua vita al suo ruolo di consorte. L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha detto a Express.co.uk l'anno scorso. Il ruolo di Philip come consorte è lontano dal ruolo che avrebbe idealmente scelto nella marina. Probabilmente sarebbe salito in alto se la salute cagionevole del re lo avesse costretto a interrompere una promettente carriera. Allo stesso modo, quando Meghan ha incontrato Harry, stava conducendo una carriera di successo nella recitazione. Grazie a tutti.